Neri Parenti ad Assisi, per primo piano sull'autore, rassegna cinematografica che punta il suo sguardo sui maggiori protagonisti del cinema italiano. Allora, Neri, da Fantozzi a Colpi di Fortuna, un iter variegato, un lungo percorso. Da Fantozzi a Colpi di Fulmine, quest'anno Colpi di Fortuna, un percorso lungo, sono 43 film, quindi penso di essere uno degli autori più prolifici. Nel panorama nazionale. Mi è sempre piaciuto il genere che faccio, quindi sono sempre rimasto nell'ambito della commedia, nell'ambito dei film comici. E visto che sono ancora qua, penso di essere riuscito abbastanza nello scopo di far sorridere la gente. È un panorama, purtroppo, cinematografico in questo momento, un pochino, a parte i recenti successi, un pochino in disagio, un pochino in difficoltà. Però speriamo di riuscire ad uscirne presto. Conto di continuare in questo genere ancora per tanti anni.